Barbary archivia il primo semestre dell'anno con utili lordi in calo dell'11% a circa 180 milioni di euro. In una nota il marchio del lusso noto in tutto il mondo per il suo tartan ha dichiarato che incidere negativamente sui risultati sono state le fluttuazioni valutarie. Poi ha concluso di non aspettarsi ulteriori impatti significativi nella seconda metà dell'esercizio fiscale se i tassi di cambio rimarranno ai livelli attuali. A preoccupare maggiormente l'azienda la domanda proveniente dai mercati di Cina e Russia che resta decisamente debole. Grazie